Illustrate nell'aula di Palazzo Lascaris le relazioni annuali del difensore civico Augusto Fierro e dei garanti regionali per l'infanzia e l'adolescenza Ilenia Serra, per le persone detenute Bruno Mellano e per i diritti degli animali Enrico Moriconi. Il difensore civico regionale ha evidenziato il grave problema degli anziani legati a letti e carrozzine in alcune RSA. Ho privilegiato l'attenzione sul tema della battaglia contro l'utilizzo della contenzione meccanica nei luoghi di cura. Questa attività ispettiva è stata svolta con un interpello scritto nei confronti delle RSA e delle case di cura e purtroppo ne è venuto fuori un utilizzo non isolato, non episodico e in alcuni casi poco commendevole della contenzione meccanica. La garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nella sua relazione ha sottolineato il problema dell'abbandono scolastico accentuato dalla pandemia. L'ufficio sta collaborando con le istituzioni e con le associazioni per monitorare e approfondire le ripercussioni che ci sono state sulla dispersione scolastica. Sarebbe necessario migliorare ed incrementare il sostegno ai genitori e alle famiglie. Un'altra grandissima tematica è certamente la situazione delle comunità per i minori che vanno monitorate non soltanto negli aspetti strutturali ed organizzativi ma anche nella qualità degli interventi educativi e psicologici che vengono forniti. Nella seconda parte della seduta d'aula è intervenuto il garante regionale per le persone private della libertà. La dinamica della pandemia ha travolto tutte le istituzioni chiuse come le carceri, come le REMS dove accanto alla reclusione, alla perdita, alla limitazione della libertà si è innescata la dinamica dell'emergenza sanitaria. Sono cominciate anche le vaccinazioni quindi c'è un dato positivo che abbiamo potuto reso contare al Consiglio regionale. Zootecnia e abbandono dei cani tra i temi trattati nella relazione del garante regionale per i diritti degli animali. In Piemonte abbiamo avuto che in 15 anni sono diminuiti gli allevamenti del 40%. Le aziende si sono ingrandite e quelle piccole hanno avuto delle grandi difficoltà a sopravvivere. Nel 2019 abbiamo circa avuto 8.000 cani recuperati sul territorio e di questi 8.000, 4.000 sono stati restituiti. Abbiamo ancora una larga parte di popolazione canina che non è stata identificata. Il fatto di essere l'unico garante regionale dei diritti degli animali in Italia conferma il fatto che il Piemonte conserva il proprio ruolo di precursore e di innovatore, ha aggiunto Moriconi. Nel dibattito in aula sono intervenuti il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco e Sara Zambaia, Lega, Carlo Riva Vercellotti, Forza Italia, Alberto Avetta, Monica Canalis, Raffaele Gallo, Domenico Rossi e Diego Sarno, Partito Democratico, Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, Giorgio Bertola e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Marco Grimaldi, Liberi Uguali Verdi, Silvio Magliano, Moderati, Mario Giacone, Monviso.